Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Oggi parliamo del Principato adottivo da Nerva ad Adriano. Prima però ricordatevi di lasciare un mi piace qui sotto, di iscrivervi al canale e di guardare la playlist dedicata alla storia per la seconda superiore che vi lascio qui sopra. Come abbiamo detto nella scorsa lezione, nel 96 d.C. muore Domiziano che viene cancellato dalla memoria con l'addamnazio, memoria. Al che emerge un problema fondamentale, lo capirete anche voi. I romani di fatto notano qualcosa, dicono ma questi imperatori che salgono al potere, ma sono capaci di fare quello che stanno facendo, che stanno andando a fare? Cioè il fatto stesso di avere dei geni in comune con per esempio Vespasiano, per quanto riguarda Tito e Domiziano, dà una garanzia al popolo, al senato, in particolare al senato, che questi sappiano quello che stanno andando a fare? Mmm, non proprio. Non sarebbe meglio forse sceglierli gli imperatori? E quindi viene ripristinato e istituzionalizzato il criterio dell'adozione, che non è una novità, perché Cesare adotta Bruto e Ottaviano. Ottaviano adotta Tiberio, ne abbiamo parlato nella lezione dedicata a Ottaviano, che vi lascio qui sopra. Quindi in realtà si tratta solo di utilizzare meglio un meccanismo che era già stato scoperto. Poste queste considerazioni, abbiamo il problema di chi metterà al potere dopo Domiziano. Viene scelto un senatore anziano inizialmente, Nerva. Perché? Perché questo Nerva deve rappresentare di fatto una sorta di transizione. Dal 96 al 98, quindi governerà pochissimo, Nerva sta al potere, governa in modo equilibrato, rispetto al senato, anche l'esercito, e quindi tutto bene. Che cosa farà Nerva? Nerva adotterà, quindi riprenderà questo meccanismo che già era stato utilizzato da Cesare e da Ottaviano, e adotta Marco Ulpio Traiano, che era un generale molto apprezzato sia dal senato che dall'esercito. Vi faccio qui vedere gli imperatori adottati. Noi oggi parleremo di Nerva, di Traiano e di Adriano. Abbiamo poi anche Antonino Pio e Marco Aurelio, l'imperatore filosofo. Perché è preferibile un principato adottivo? Perché salgono al potere persone capaci e competenti? E si evita anche poi l'ascesa al potere di personalità un po' eccentriche, del tipo, non so se vi ricordate, Caligola, Nerone, ma anche Domiziano. Il nuovo imperatore viene scelto nel cedo senatorio e piace all'esercito. Avete visto nell'anno Sorribilis cosa è successo? Non ci sono poi scontri al momento della successione. Congiure di palazzo, ce le ricordiamo? L'imperatore poi è scelto non sulla base della nascita, ma sulla base del merito. Ma chi mi dice che se io sono figlia di sarò valida? Magari sarò per niente valida per svolgere la funzione di imperatrice, no? È meglio che si valutino le mie capacità, che ne pensate voi? E poi in questo modo viene un po' ripresa l'idea augustea del principe come magistrato al servizio dello Stato. Tra l'altro Traiano, scelto da Nerva, è il primo imperatore nato in una provincia, in Spagna. Con Traiano abbiamo la romanizzazione che procede e anche l'espansione, perché l'impero romano raggiunto il massimo dell'espansione. Tant'è che poi anche Traiano governa sull'idea della giustizia e fa tutta una serie di conquiste militari. La Dacia, l'attuale Romania, che però è un'origine, si chiama Romania, il regno dei Nabatei, che possiamo collocarlo nella zona della Siria meridionale e della Giordania. Traiano vuole vendicare le sconfitte che ha subito Domiziano, perché Domiziano aveva trovato un accordo con i Daci. Dunque, Traiano decide di conquistare la Dacia e ce la fa e Roma lo celebra, lo omaggia con un trionfo, un nuovo foro e viene costruita la famosissima colonna Traiana in onore di Traiano. Vedete qui il foro di Traiano, il mercato di Traiano, tutti i monumenti dedicati a Traiano. Non solo, vi dicevo che conquista il regno dei Nabatei, si trovava tra la Siria e l'Egitto. Questo regno viene conquistato e sempre nel 106 diventa parte dell'Arabia Petrea, quindi dominio romano. Nel 114 conquista l'Armenia e la Mesopotamia, che erano dei possibili stati cuscinetto per mettere al sicuro le coste del Mediterraneo dagli attacchi dei parti, queste popolazioni iraniche molto forti. Nel 115 inoltre Traiano però deve fermarsi, perché lui voleva conquistare, voleva conquistare, però abbiamo una seconda rivolta giudaica. Vi ricordate che abbiamo già parlato della rivolta giudaica quando abbiamo parlato della dinastia Flavia e abbiamo detto che Tito, il figlio di Vespasiano, era riuscito a distruggere il Tempio nel 70 d.C. e a conquistare Gerusalemme. Abbiamo la seconda rivolta giudaica e quindi Traiano interrompe le conquiste militari e cerca di sedare le ribellioni, però mentre cerca di sedarle muore improvvisamente. Nel 117 d.C. allora l'esercito proclama imperatore Adriano, che è sempre un generale di origine spagnola ed è sempre un imperatore adottivo, quindi è stato adottato da Traiano. Adriano è un imperatore che è amante della letteratura e della cultura e governa per 21 anni. Viaggia tantissimo e visita ben 12 province romane. Voglio leggere questo passo dalle memorie di Adriano, di Marguerite Jorsnor, che è una scrittrice belga. Fondare biblioteche, come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito, che da molti indizi mio malgrado vedo venire. Ho ricostruito molto e ricostruire significa collaborare con il tempo nel suo aspetto di passato. Coglierne lo spirito, modificarlo, protenderlo quasi verso un più lungo avvenire. Significa scoprire sotto le pietre il segreto delle sorgenti, perché Adriano ama la cultura, ama la letteratura e infatti è un imperatore che si governa, si dedica anche al comando dell'impero e a rafforzarne i confini. Però è anche un imperatore che ricordiamo per il suo gusto, per la famosa villa Adriana di Tivoli, di cui parleremo dopo. Adriano, al comando dell'impero, com'è? Abbandona i territori recentemente sottomessi e fa smilitarizzare le regioni del Tigri e delle Eufrate. Emana anche un editto perpetuo in modo tale da formalizzare le consuetudini degli editti dei pretori. Che vuol dire quello che ho appena detto? Vuol dire che Adriano si rende conto che i pretori emanano degli editti che si ripetono. Si ripetono. Quindi di fatto ci sono delle consuetudini che potrebbero essere messe per il scritto con un editto perpetuo, quindi che vale sempre, anziché ogni volta far scrivere al pretore un editto tralatizio. Si può avere un editto perpetuo che riassume queste consuetudini. A noi sembra una banalità, non lo è per niente, perché in questo modo lui mette per il scritto e dà una sorta di editto perpetuo, perenne. Semplifica la burocrazia. Cancella anche i debiti dei cittadini e degli abitanti delle province. Anche questo per ringraziarsi, chiaramente, i cittadini e gli abitanti delle province. E potenzia la sicurezza dei confini. Avrete già sentito parlare del vallo di Adriano. Lo vedete qui, vicino al vallo poi di Antonino, che verrà costruito più tardi. Ed è un vallo che deve proteggere la Britannia. Non solo questo vallo viene costruito, iniziato nel 122 d.C., poi abbiamo anche un fossatum afriche in Africa. Quindi Adriano è interessato al mantenimento dei confini e alla protezione. Egli riuscirà inoltre a trasformare Gerusalemme in una colonia romana. Questo non è positivo dal punto di vista della popolazione ebraica, perché gli ebrei sono vittime, ancora una volta, di persecuzione. Di fatto, gli ebrei non possono stare a Gerusalemme. Addirittura Adriano stabilisce la costruzione di un tempio in onore di Giove. Al posto del tempio, quello che aveva distrutto Tito, il figlio di Vespasiano, nel 70. Quindi gli ebrei si organizzano una rivolta, però niente, non ce la fanno. Viene respressa questa rivolta e muoiono più di 600.000 ebrei. La storia del popolo ebraico è una storia molto complessa, difficile, come avete visto anche nella video-lezione, in cui abbiamo parlato della situazione degli ebrei e di tutte le diaspore e della schiavitù che subiscono. Vi dicevo che Adriano è anche l'imperatore della cultura, dell'arte, dei viaggi. In Egitto fonda Antinopolis, che è in onore di Antino, il suo amato. Costruisce inoltre una villa a Tivoli, Villa Adriana, che io ho visitato e che è meravigliosa. E fa restaurare il Pantheon. Vi consiglio di visitare Villa Adriana. È una villa che ha veramente tante bellezze. Per esempio il complesso di edifici, del Pecile, il Canopo, che sono dei protagonisti in mezzo a questo giardino, che vede poi portici, addirittura una piscina, un bacino d'acqua pieno di colonne e di statu. Quindi Villa Adriana è meravigliosa. Vi lascio anche qui sotto il mio articolo proprio dedicato alla villa. Queste sono le parole rivolte all'anima dell'imperatore Adriano Morente. Piccola anima smarrita e soave, compagna e ospite del corpo. Ora ti appresti a scendere in luoghi incolori, ardu e spogli, ove non avrai più gli svaghi consueti. Questa piccola anima smarrita dell'imperatore Adriano, un imperatore così amante dell'arte, del bello e della cultura. Adriano indicherà come successore Antonino Pio. che salirà al potere nel 138 d.C. e governerà per 23 anni. Ma per parlare di Antonino Pio e quindi della dinastia degli Antonini, vi lascio alla prossima video-lezione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.